Ciao gentaglia, buon inizio settimana, avete fatto i bravi? Oggi è la giornata mondiale del rifugiato che viene celebrata proprio il 20 giugno di ogni anno per commemorare l'approvazione da parte delle Nazioni Unite nel 1951 della Convenzione sui profughi per portare attenzione sulle difficoltà che tante persone in tutto il mondo sono costrette ad affrontare scappando da guerre e persecuzioni di varia natura nelle loro Nazioni Eventi umani, quindi evitabili ma terribili, che li obbligano ad andare in altre Nazioni dove le erudite, sofisticate e comprensive e compassionevoli e tecnologicamente avanzate popolazioni europee inizieranno a litigare, tirare su muri e sparare addosso ai loro stessi rappresentanti politici nel nome dell'aiutiamoli a casa loro Ah, la buona e vecchia Europa, patria dei diritti civili, dell'eurodense e dei nazionalismi a intermittenza che saltano fuori come funghi quando ci sono gli europei o un tizio con la pelle nera sta attraversando il confine Partiamo dalle cose iper frizzanti perché proprio alla vigilia di questa celebrazione la Turchia alla quale abbiamo affidato il compito di tenersi i migranti tendenzialmente che da soli non riusciamo a gestire è stata accusata e nessuno se lo sarebbe mai aspettato da un paese che fica in carcere chiunque dica il nome di Erdogan senza il sorriso tra le labbra di aver sparato su una famiglia di siriani che cercava di attraversare clandestinalmente il confine Il punto è che la Turchia si trova qui e l'idea è che l'Europa versi un sacco di soldi in modo che i profughi rimangano un problema lontano, gestibile con i nostri tempi, con le nostre modalità, eccetera e quando dico modalità intendo magari non sparandogli addosso a sta gente visto che la sua unica colpa è quella di esistere ciò nonostante attivisti dei diritti umani dell'osservatorio siriano denunciano la morte di undici persone tra le quali quattro bambini Ankara smentisce ovviamente e parla di alcuni colpi sparati in aria che avrebbero spaventato i fuggiaschi che avrebbero desistito e la verità è che non sapremo mai la verità perché ciò che non si vede per la maggior parte delle persone non esiste fosse successo in Italia ad esempio che qualcuno spara su una famiglia con figli ne parleremo da qui all'elezione del prossimo papa e qualcuno ci farebbe anche delle magliette simpatiche e due o tre pagine su facebook a tema ma finché sta gente muore, se è morta lontano, un po' frega cazzi l'osservatorio siriano che è un'associazione con sede a Londra parla di 60 morti di questo tipo dall'inizio del 2016 del resto a nessuno frega niente di niente di niente quando il cerchio di interesse è troppo largo e si spinge troppo lontano da casa è così che funzioniamo prendete il Venezuela ad esempio così lontano che potrei fare il giochino di John Oliver sbagliandone di proposito la collocazione sulla mappa e in molti non se ne accorgerebbero abbiamo spesso parlato di questo paese del Sud America che possiede la più grande riserva di petrolio del mondo ma che è guidato da un governo totalmente incompetente che si è instaurato a seguito di altri governi completamente incompetenti e in una situazione così disastrosa da aver perso completamente il controllo della sua stessa economia secondo il New York Times l'87% e un po' dei venezuelani non ha abbastanza soldi per comprare quantità sufficienti di cibo perché questo è così scarso che ne sono lievitati i prezzi in modo assurdo tanto che in media gli abitanti devono spendere il 72% dei loro stipendi mensili soltanto per riempirsi la pancia, la loro e quella della propria famiglia il che è folle e crea un'instabilità senza precedenti tanto che attorno ai negozi e attorno alle attività nelle quali si produce del cibo o ci sono i militari o ci sono delle gang che si combattono per il controllo di quel cibo una bambina di 4 anni è rimasta recentemente colpita e uccisa in uno di questi scontri a fuoco e si registrano almeno altre 5 persone uccise nei più di 50 scontri con le forze dell'ordine nelle ultime settimane per avere accesso al cibo questo giusto per farci un'idea di cosa significhi una cattiva gestione dell'economia di una nazione in genere visto che ogni tanto sembra delinearsi l'idea che in qualche modo ce la si fa sempre come se la politica fosse una sorta di partita di calcio ci si infervora moltissimo, vincono i miei, vincono i tuoi e al match finito tutti a casa bersi la mazza caffè e alla fine nulla è cambiato nop, non è così che funziona e non so cosa voglia dire nop soprattutto visto che citavamo John Oliver tra le altre cose fantastiche di questa settimana c'è un suo pezzo sul Brexit probabilmente non è dei migliori in effetti non lo è per noi almeno a livello di contenuti lo show è dedicato a un pubblico americano che a malapena sa riconoscere l'Europa su una cartina figuriamoci sapere dove si trovino le varie nazioni europee ma comunque ve lo consiglio perché affronta lui che è britannico il discorso del Regno Unito che ha tutto l'interesse a rimanere ma anche un'intrisica necessità di scassare continuamente i coglioni ribadendo il fatto di sentirsi un paese super super speciale tra gli altri paesi europei durante la settimana anche io ho parlato del Brexit a modo mio ovviamente affrontando il tutto in maniera super personale come sempre è nelle puntate di Unedited l'ho fatto anche in maniera molto semplice in modo che il tutto non risultasse pesantissimo se non l'aveste visto lo trovate su breakingitaly.it c'è anche un altro video che mi ero perso mi è stato linkato da alcuni di voi durante il weekend e ve lo lascio in descrizione a cura di una ragazza molto in gamba nella quale avevo già raccomandato un altro video sull'ISIS che a sto giro invece parla della storia dell'Unione Europea dura una mezz'oretta credo è fatto per informare e non per intrattenere quindi tenetelo presente il tono è alle volte per qualche ragione un po' sofferente e pieno di sospiri più o meno come il mio dopo aver letto troppi commenti su internet molto ben fatto però molto brava si vale il tempo speso per guardarlo ve lo consiglio e ve lo linko in descrizione un'altra cosa che in tanti stiamo progressivamente scendendo di livello e me ne rendo conto ma non mi scuserò mai è così che fanno le vere web stars, influencers, social media authorities, hashtag insta love è la storiella che ha visto protagonisti i The Colors ora io non sapevo chi fossero i The Colors e soltanto di recente ho scoperto essere quelli della musichetta di Vodafone che dice wow oh oh seguito da un po' di roba in inglese comunque sono tutti molto arrabbiati perché il trio di giovani italiani del mondo della musica yada yada erano sul palco di una manifestazione di MTV ma siccome si sono arrabbiati per ragioni non chiare il loro pezzo è partito prima o qualcosa del genere non importante hanno nella persona del cantante sputato sulla videocamera durante l'esibizione perché pazzi pazzerelli e poi se ne sono andati rifiutandosi di ricevere il premio wow shots fired cosa ne pensi shy? non lo so cosa dovrei pensarne è così importante avere un'opinione in merito a questa roba? perché io ricordo ancora quando i Green Day Green Day si erano rifiutati di suonare perché avevano litigato con Justin Bieber a lui avevano dato più tempo a loro meno il cantante aveva fatto una scenata vi ricordate quella roba lì? poi e poi niente i Green Day sono ancora lì Justin Bieber è ancora lì se ne è parlato qualche giorno e ora non se ne parla più e il mondo ha continuato a girare principalmente perché cose di questo tipo un po' fanno parte del gioco e un po' anche perché tanto chi apprezzava i Green Day ha trovato che il loro fosse un gesto di protesta da apprezzare fantastico chi no? ha detto forza Justin sono tutti invidiosi e in questo caso sarà lo stesso e comunque sputare anche solo per terra fa schifo e non è più un gesto pazzarello dal 1980 è comunque il presentatore Mandelli quello dei soliti idioti che in un video di backstage che sta girando un sacco sul web che si incazza e dice al cantante ma chi cazzo sei? è qualcosa di impagabile che poi tra l'altro la competizione è stata vinta da Benji e Fede chi è sta gente? perché sono l'ultimo a sapere le cose? internet mi sta sfuggendo di mano mi sono informato un po' questa gente seguitissima non so chi sia internet where are you going? in ultimo i ballottaggi innanzitutto fantastico che per molte ore oggi stesse girando l'hashtag perché si utilizzano gli hashtag ormai per parlare delle cose ballottaggi con una t soltanto e tutti hanno continuato a utilizzare la versione scorretta semplicemente perché era quella con più tweet anche i giornali questa roba me l'ha fatta notare il post e probabilmente la ragione è che anche se è sbagliato e tutti si sono accorti fosse sbagliato nessuno voleva rischiare veramente di non apparire negli importanti importanti feed della gente perché sarà anche sbagliato ma nulla è importante come quei dolci dolci clicks partiamo da Napoli e Bologna i risultati più scontati dove ha vinto il sindaco uscente dei magistris sostenuto dalla sinistra radicale in una e Merola sostenuto dal centrosinistra nell'altra le loro vittorie erano largamente attese le magistris si è fatto una corsetta con le braccia alzate per le vie della città e insomma una roba anche a Milano ha vinto il centrosinistra che sosteneva Beppe Sala questo tizio qui noto dirigente d'azienda è famoso per essere stato amministratore delegato di Expo 2015 non ha vinto di moltissimo comunque ha preso il 52 quasi per cento contro il 48 del suo avversario di centrodestra quindi il risultato non era per niente scontato in realtà e centrosinistra perde di brutto in una città importante invece Torino dove il sindaco uscente Piero Fassino protagonista peraltro di una delle foto più tristi della storia di internet non è stato riconfermato il fatto che Fassino tra il primo e il secondo turno abbia visto i suoi voti praticamente inalterati fa pensare che i voti di Chiara Pendino giovanissima e apparentemente molto preparata a 31enne del Movimento 5 Stelle che ha vinto siano arrivati anche dal centrodestra che ovviamente come ha già detto in altre occasioni si spara in testa piuttosto che votare PD e in questo il Movimento si riconferma un partito trasversale in grado di prendere i voti da una parte e dall'altra d'altra parte i grillini hanno vinto in 19 delle 20 città nelle quali correvano al ballottaggio proprio a dimostrazione di sta roba qui se sei di destra piuttosto che votare sinistra voti 5 stelle se sei di sinistra piuttosto che votare destra voti 5 stelle ma la ragione per la quale tutti parlano di Roma oggi è che il Movimento sia giudicato quella che è la sua vittoria più grande in assoluto sinora ovvero il Campidoglio Virginia Raggi 37enne è il nuovo sindaco di Roma probabilmente anche in questo caso grazie a una parte dei voti di centrodestra che era impossibile una figura come Giacchetti potesse intercettare questa notizia è interessante perché la Raggi si mette alla guida della città più complessa e incasinata d'Italia ma sulle sue spalle c'è molto più che il semplice destino politico di Roma e dei Romani se dovesse fare bene che è già di per sé una cosa difficile da misurare in politica si dimostrerebbe in effetti che il Movimento 5 stelle è più che una semplice opposizione cieca a tutto ma che in effetti il tormentone dell'onestà onestà onestà con il quale si sfrangiano i coglioni degli italiani da mesi ha un fondamento e che un outsider per di più abbastanza giovane è in grado di avere successo dove i partiti tradizionali hanno fallito una roba di questo tipo sarebbe molto importante contando che io non riesco nemmeno a cuocere delle uova se qualcuno mi sta guardando faccio un casino perché sento la pressione montare è di sicuro qualcosa di interessante in tanti inoltre dicono che non si renda veramente conto la Raggi intendo delle difficoltà alle quali va incontro ma in questo caso io mi sento di prenderne un po' le difese perché è vero, magari non lo sa, ma questo non le impedisce di fare bene nel caso perché spesso per fare le cose è necessaria una dose di inconsapevolezza altrimenti non si farebbe mai niente d'altra parte se dovesse fallire o ancora peggio del fallimento dovessero immediatamente crearsi delle tensioni con il movimento centrale che vuole mantenere la sua linea dura e pura in situazioni che invece necessiterebbero di mediazione come nel caso di Pizzarotti quella non sarebbe soltanto una battosta per vicini a Raggi o per Roma o per tutti i cittadini romani ma per l'intero movimento è una certa dose di responsabilità quindi staremo a vedere buon lavoro a tutti comunque e se voi non foste contenti della scelta dei vostri concittadini non lo so, fatevene una ragione mangiate del cioccolato per i prossimi cinque anni e questo gentaglia è tutto per oggi grazie per aver guardato grazie per essere arrivati fino a qui e grazie soprattutto a Marianna e Martin regina e alfiere di oggi ci mandano questa foto dalla Calabria sono super giovani nel senso positivo non super giovani tipo me che ho detto palesemente ah 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 l'appendino è molto giovane amico ha 31 anni perché è di un anno più giovane di me quindi se è giovane lei sono giovane pure io sono tutte delle tattiche segrete per conquistare i cuori di nessuno fate i bravi tutti quanti ancora buon lunedì e ci vediamo domani alle 18